Mister, è arrivato questo pareggio 2-2, veramente un pareggio conquistato con le unghie e con i denti, proprio all'ultimo secondo. Sì, ci abbiamo creduto dall'inizio, volevamo provare a vincere purtroppo l'episodio del rigore, abbiamo sbagliato il rigore, poi siamo andati in svantaggio, però dopo il 2-0 abbiamo giocato in senso unico, quindi secondo me è un pareggio meritato. Bene, sperate ancora nei primi posti dei play-off? Siamo a due punti dalla seconda, quindi secondo me è giusto che abbiamo anche scontro di ratto ancora, quindi è lunga ancora. Bene, grazie Mister e complimenti per questo pareggio, grazie da tutta settimana sport, grazie davvero. Ciao, grazie.